Amici di Puglia Advisor, qualche giorno fa ho avuto l'onore di partecipare come giudice al terzo trofeo di pizza garganica dedicato al nostro amico Gino Turco. La competizione è stata organizzata dagli amici di Associazione Pizzaioli Garganici e il presidente Vincenzo Dapote. Tanti partecipanti, tante le aziende che hanno supportato questo splendido evento, ma soprattutto tanta la voglia di imparare e migliorarsi. I giudici erano veramente dei professionisti del settore, naturalmente, tranne me. Però io mi sono buttato e ho dato la mia parola a quello che ho degustato. A parte gli scherzi è stata una giornata veramente all'insegna della professionalità e anche dell'amicizia e della sana competizione. Ecco a voi alcuni dei vincitori, o forse tutti, sinceramente non me lo ricordo. Comunque ragazzi, complimenti veramente, ci vediamo al quarto trofeo di pizza garganica e intitolarla Gino Turco è stata una cosa veramente bella. Bravo presidente, bravo Vincenzo Dapote, bravi tutti i partecipanti e soprattutto brava la nostra terra che inizia a capire e sarà sempre così a migliorarsi sempre di più per garantire un servizio e una qualità eccellente, perché la nostra terra, lo sappiamo, è eccellente. In bocca al lupo a tutti, ci vediamo alla prossima. Intanto scorrono i vincitori e io ricordo le pizze buonissime.